Presidente, quando è come possibile diventare soci della Proloco, sostenendo di conseguenza anche l'associazione di volontariato? Diventare soci della Proloco è molto semplice perché questo weekend, sabato e domenica, faremo un open day presso la cooperativa Tre Ponti, dalle 18 alle 21, dove chiunque potrà tranquillamente venire e diventare socio della Proloco e di conseguenza dare una mano anche all'associazione con il loro contributo. In più sarà incluso un aperitivo che faremo praticamente sia sabato che domenica sera, in maniera tale che la gente, oltre che venire a fare il tesseramento, potrà comunque passare un po' di tempo con noi. Quest'operazione l'abbiamo fatta perché negli anni passati, fatta eccezione chiaramente negli ultimi due anni, abbiamo sempre fatto un pranzo. Visto e considerato che molta gente ancora ha un po' paura per quanto riguarda gli assembramenti, abbiamo trovato la soluzione migliore, ovvero quello di fare un piccolo aperitivo. Il costo di tutto questo, che comunque è il costo della tessera, è di 5 euro a persona. Si cerca di tornare comunque alla normalità anche per quanto riguarda gli eventi, siete al lavoro per l'organizzazione? Sì, siamo al lavoro ormai da un pezzettino, infatti mi sono trovato anche in corsa, che sono diventato presidente da poco, e già comunque stavamo già preparando e impostando le attività per quanto riguarda quest'estate. Chiaramente nelle prossime settimane, più che nei prossimi giorni, faremo sapere sicuramente qualcosina, però chiaramente dobbiamo un attimo capire come si evolverà un po' la situazione, anche se fortunatamente sembra che la situazione si sta un pochettino aprendo. Grazie.